Arrivo alla casa di Recanati 2. Con i tagli alla spesa, la corriera delle tre e mezza finisce all'oretto. Ma alla piazza dei Galli c'è già Mario. Facciamo la salita verso il cielo. Mezz'ora dopo sono dentro casa e il nuovo prete, Donigino, suona. Stanza per stanza me la benedisce e recitiamo il Padre Nostro insieme. Mezz'ora dopo provo fame e sete. Pieno di fede, telefono a Leo. Leo mi trasporta verso un suo dominio, effimero nel giorno che declina. Mi ingiunge, prendi questo, prendi quello. Il cielo è dei violenti e tu, rapina.